hello guys e bentonati nel canale mio siamo tornati oggi con un nuovissimo gioco nuovissimo per modo di dire crash bandico 2 cortex strikes back c'era già uno un titolo precedente a questo ce ne sono tre crash 1 crash 2 crash 3 ma io ho scelto questo perché è quello che preferisco e ho scelto praticamente c'era quello lì rimasterizzato della playstation 4 ma io ho scelto per dare un tocco di rustico ho scelto questo della playstation 1 proprio per giocare proprio a un retrovo vero e proprio e ho scelto questo perché tra i tre è il mio preferito ma nulla toglie che potrebbero arrivare anche gli altri partiamo subito saltiamo questi filmati partiamo subito con il primo quadro com'è strano giocare nuovamente con la grafica della playstation 4 ma è strano giocare nuovamente con la con la grafica della playstation 1 abituato a quella dell'a4 salta piove piove una vita con la grafica della playstation 4 ma è strano giocare nuovamente con la grafica di con la grafica di più dentro più dentro ecco così e salta su non fare il dislessico ma è compazzata distruzzi nooo sbagliato mi devo ributtare perché se no non la prendo non la prendo Oh, ora ci sono riuscito Un'altra bella vituccia Chica-poiint Bonus Un'altra bella di Chica-poiint Ok Ora devo cercare di prendere quella cassetta in alto Senza uccidere la tartaruga Fatto Un'altra bella di E la bella gemmetta Il cristalluccio più la gemma Adesso manca l'altra Che per prenderla bisogna ripetere il quadro Senza rompere le scatole Le scatole in senso Le scatole del gioco Farò dei tagli Così sarebbe sciocco mostrare il quadro nuovamente completo Anche se si fa più veloce Però faccio dei tagli Così da rendere il video Diciamo più veloce Da E' ok Abbiamo preso la gemma blu Senza rompere alcuna cassetta Ci godiamo il ballettino di Crash Bene Per oggi è tutto Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Attivate la campanella Per non perdere i prossimi video Bye bye